Beh, credo che Trieste in questo momento è molto vicina a Vienna e mi sembrava inopportuno questa sera accendere le luci natalizie, lo faremo nei prossimi giorni. Credo che sia un gesto dovuto verso l'Austria e verso Vienna. Siamo molto vicini a quel paese, a quella città. Trieste è vicina a Vienna e a tutta l'Austria, oggi sotto shock dopo gli attentati di ieri sera, con morti e feriti. Il sindaco, a margine della messa di San Giusto in cattedrale, ha comunicato dunque lo slittamento, ad altra data, dell'accensione delle luci natalizie, in segno di rispetto per le vittime e incontrando così un sentimento, quello di vicinanza con la capitale austriaca, molto diffuso nella nostra città. Ne interprete, ad esempio, Alessio Colauti, che con Vienna ha un legame particolare. Sono un cittadino di Vienna, perché ho casa a Vienna e perché mi legano a Vienna anche delle splendide esperienze lavorative nel mondo dell'operetta. E' veramente questa ondata di odio che sta pervadendo un po' tutta l'Europa e colpisce Vienna, che da sempre è stata una grandissima madre di un impero enorme, multietnico e un attacco molto simbolico. La capitale di quello che è stato un impero che aveva moltissime religioni, moltissime lingue e nazionalità, colpita proprio nel suo cuore più profondo, che è la comunità ebraica, che è una delle più importanti, insieme a quella di Budapest. Artista ma anche operatore turistico, Colauti conduce spesso i suoi viaggiatori nei luoghi colpiti dagli attentati. Conosco molti angoli nascosti dove non sempre si va e c'è sempre qualcosa da vedere a Vienna, naturalmente. E purtroppo è un bruttissimo momento, una cosa che ha toccato profondamente me e credo molte altre persone. Una preghiera, un pensiero ai nostri compatrioti. E comunque noi triestini ci sentiamo sempre a casa a Vienna e loro si sentono sempre a casa qui da noi. Quindi il legame è molto forte. Grazie. Grazie.